Il 27 sera, giovedì, come sei informato, vedremo un film che non ha bisogno di presentazioni, che è appunto Miseria e Nobiltà. Successo di pubblico per il secondo appuntamento del Cine Totò, la rassegna cinematografica promossa da Guitti senza carrozzone che nel mese di agosto sta portando del sano intrattenimento in un periodo non facile da gestire per il cinema e il teatro. Quando l'amministrazione comunale di Rocca Bernarda ci ha contattato per la rassegna estiva ci siamo chiesti cosa potevamo fare e soprattutto di cosa c'era realmente bisogno e la risposta è stata il sorriso. Portare un sorriso è stato fin da subito la mission dell'associazione nata proprio a Rocca Bernarda dalla mente di Vincenzo Leto che ha voluto intrattenere il pubblico con il più grande comico italiano di sempre, Totò. Questa attività è stata fortemente sostenuta da amici importantissimi, non solo dall'amministrazione comunale di Rocca Bernarda ma da grandi amici come l'Accademia Musicale Fernando Sor di Pitilia, Roccanova nella persona del dottor Antonio Pugliese e l'Oratorio La Luce del Sole nella persona di Don Ercole. Amici fondamentali per la realizzazione di questo evento. Ad arricchire le serate è stato anche il teatro e la recitazione, due i momenti teatrali che hanno anticipato e chiuso la proiezione della tre giorni di film una doppia performance teatrale che il pubblico ha particolarmente gradito e che ha permesso una maggiore introspezione del fenomeno Totò. Che hai fatto? Ho dato un eterno addio all'amore. Che hai dato? Un eterno addio. Che c'ho dato un eterno addio, sei capace di dare un'ambia a compa? Ma no, un eterno addio. C'è bisogno di ridere. In questo momento particolare che stiamo vivendo è inutile raccontarcelo. La gente ha bisogno di ridere perché quella risata ti salva la vita. E questa è l'idea del cine Totò. Un film di Totò sotto le stelle d'estate può veramente ristorare l'animo umano. Il tutto ovviamente svolto con il protocollo anti-covid per la sicurezza ovviamente del pubblico e non solo. E così continueremo nelle prossime serate. Masquale, ma lo sai che sei proprio un cretino? Eh, lo so, lo so. Ah, lo so, lo so. Compa, perché lo so? Eh, lo so pure io. Lo so pure lui. Fulcro di questa rassegna sarà poi giorno 30 agosto, quando il cinema lascerà definitivamente il posto al teatro. Domenica sera infatti andrà in scena, riderete anche stasera. Spettacolo che ha debutato a Natale dello scorso anno al Teatro della Maruca. Domenica 30 agosto ci sarà un vero spettacolo, io e Nicodemo Bilotta riporteremo in scena, riderete anche stasera. Sempre con la filosofia di portare il sorriso, qual modo migliore con un bellissimo spettacolo di avaspettacolo che possa portare veramente un'ora di leggerezza e dispensieratezza. Ginta, traditrice, ginta, stilatrice, e si è aperta la banderia. Sei sicuro, te lo stavo per la parola a tu gli adulti, si denzi. Grazie. 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 Grazie.